Suo figlio ha causato un incidente stradale e la morte di alcuni bambini. Per evitare l'arresto deve consegnarci al più presto 30.000 euro. Ieri pomeriggio un'anziana triestina ha ricevuto questa telefonata cui immediatamente ha fatto seguito l'arrivo a casa della donna ingretta di una sedicente poliziotta in uniforme nera incaricata di ritirare quanto più possibile fra gioielli e contanti per allontanarsi in fretta e furia quando la richiesta di informazioni da parte della vittima del raggiro diventava più insistente. Parliamo ancora di truffe nei confronti di persone avanti con gli anni facilmente impressionabili e alla merce dei malintenzionati. In questo caso purtroppo il raggiro è andato a segno. Sono in corso ricerca in tutto il territorio provinciale per acciuffare la ladra. All'anziana non è rimasto che sfogarsi con la figlia. Sempre ieri pomeriggio un'altra anziana si è sentita chiedere una somma di denaro stavolta da presunti carabinieri il cui ritiro sarebbe dovuto avvenire dopo pochi minuti per pagare i danni di un incidente stradale provocato dal marito. L'uomo però era in casa accanto alla moglie pertanto la telefonata si è interrotta immediatamente dopo la minaccia da parte della coppia dell'intervetto delle forze dell'ordine che invitano a diffidare da simili comportamenti messi in atto da chi si approfitta della fiducia delle persone più deboli. Al minimo sospetto e per verificare situazioni che appaiono dubbi anomale polizie e carabinieri devono essere informati prontamente senza alcun timore.